Eccoci, benvenuti a tutti, benvenuti a questa sessione dove parleremo di Teams Toolkit e come sviluppare le applicazioni per Microsoft Teams con Visual Studio Code. Buongiorno a tutti, aspetto un po' che vi colleghiate, che facciate join alla sessione. Un buongiorno a tutti quanti, anche a Emanuele che sicuramente mi sta seguendo. Ciao, allora mi presento, vado alla prossima, eccoci qua. Mi presento, sono Federico Porceddo, ho 39 anni, sono di Cagliari, lavoro su SharePoint dal 2009, quindi già da parecchi anni e lavoro in Havana dal 2011. Sono un Microsoft MVP nell'area Office Development di recente nomina, attualmente lavoro in Havana come Technical Architect nell'area Modern Work. Collaboro o meglio contribuisco alla community di Patterns and Practice di SharePoint come appunto contributor e blogger. Qui trovate i miei riferimenti, il mio Twitter e il mio blog. Ringraziamo gli sponsor che hanno consentito di realizzare appunto questa conferenza purtroppo ancora in live streaming. Speriamo che per adesso si possa farle insomma un po' dal vivo anche per il piacere appunto di incontrarsi e condividere, vedere appunto le novità che ci sono su Visual Studio. Tra gli sponsor appunto c'è anche Havana, cito appunto perché lavoro in Havana da diversi anni e vi lascio giù in calcio il link nel caso in cui vogliate appunto andare a vedere quali sono le posizioni aperte in Havana. Allora andiamo subito al sodo di questa sessione dove appunto parleremo di Teams Toolkit, faremo una prima overview su Microsoft Teams, parleremo del cosiddetto Teams Extensibility Model, ovvero come andare a estendere, a customizzare Microsoft Teams con i vari appunto approcci, ovvero costruire tab, app personali, bot e quant'altro. Faremo decenni architetturali, vedremo quali sono i tool e poi entreremo nel vivo parlando del Teams Toolkit per Visual Studio Code con ovviamente una demo. Perfetto, cominciamo a parlare di Teams che ovviamente conoscete tutti, conosciamo tutti anche perché lo stiamo usando in questo momento, però oggi parleremo di come estenderlo. Quindi Microsoft Teams è il lab per il lavoro su Microsoft 365, consente di comunicare, quindi chattare, appunto andare avanti con dei meeting, delle call, consente di collaborare con le varie funzionalità di condivisione di file, coediting e co-working, quindi creare Teams, canali e quant'altro. Ed è perfettamente integrato ovviamente con la piattaforma Microsoft 365. È possibile personalizzare e estendere i Teams fondamentalmente con delle applicazioni di terze parti che consentono di realizzare e introdurre dei processi oppure con i tools per sviluppatori che vedremo oggi. Il tutto ovviamente può avvenire in piena sicurezza perché tutto ciò è garantito dalla suite Microsoft 365 ed è perfettamente integrato con gli strumenti di compliance e di security del prodotto. Teams in questo periodo, diciamo negli ultimi anni, ha avuto assolutamente un boom importantissimo. Stiamo dicendo che siamo passati da 32 milioni di utenti attivi al giorno nel marzo 2020 a 145 milioni di utenti attivi al giorno in questa primavera. Questo assolutamente fa di Teams l'applicazione business con la crescita più rapida nella storia di Microsoft. Potete quindi immaginare cosa vuol dire, cosa ha voluto dire per Microsoft la presenza e l'utilizzo di Teams e capiamo anche il perché adesso appunto ci sta investendo molto, offrendo a noi sviluppatori molti strumenti per estendere, per costruire le applicazioni per i nostri team o i nostri clienti fondamentalmente. Vediamo adesso qual è la piattaforma di estensione, ovvero come è possibile estendere Microsoft Teams. Sicuramente diciamo l'utilizzo base, cioè cominciamo a capire il perché, perché l'utilizzo base di Microsoft Teams consente di arrivare diciamo fino a un certo punto, ma nel momento in cui vogliamo offrire delle funzionalità avanzate ai nostri utenti o comunque per i nostri use case, non possiamo fare altro che ovviamente customizzare. Lo possiamo fare in modalità diciamo un po' più light e quindi con strumenti sempre di piattaforma, qual è la power platform, quindi costruendo delle power up oppure di flow, di power automate, ma possiamo anche mettere le mani nel codice e usare uno di questi approcci. Vediamo rapidamente quali sono questi approcci. Sicuramente il bot è uno degli approcci più frequenti perché consente di dare una nuova user interface diciamo all'esperienza di utilizzo di Microsoft Teams introducendo un interlocutore potenzialmente con un'intelligenza artificiale dietro che consente di soddisfare l'esigenza dell'utente, ovvero di rispondere a delle domande e quant'altro. Questi bot possono essere usati sia in call, in conversation oppure nei meeting online. Il più frequente, almeno per la mia esperienza diciamo l'utilizzo più, l'estensione più frequente è quella del team tabs, ovvero l'aggiunta di un tab che poi può essere in un'applicazione personale oppure in un team dedicato ancora in una conversazione o in un canale e consente di mettere diciamo dentro Teams una nostra esperienza utente visuale, quindi una renderizzazione del codice fondamentalmente una pagina HTML e questo è l'utilizzo più frequente che almeno ho visto negli ultimi periodi. I connettori anch'essi sono un modo molto interessante per consentire all'utente di integrare le proprie funzionalità, i propri use case di business nel proprio Teams. Sono dei connettori che consentono di collegare diciamo in incoming e outcoming eventuali endpoint di terze parti. Quindi facciamo un esempio, possiamo creare un connettore di incoming in modo tale che è possibile andare a scrivere tra virgolette, diciamo a indirizzare dei contenuti verso il Teams. Immaginiamo che ad esempio una DevOps, quindi un'istanza di DevOps che nel momento in cui viene creato un task va a pushare nel Teams i contenuti e in questo modo lo possiamo fare semplicemente usando un connettore oppure in outgoing, quindi andare a creare un connettore che possa portare fuori dal Teams delle informazioni. Quindi magari taggando il connettore posso andare a scrivere questa volta sulla mia board di DevOps. Activity feed è un altro approccio che consente di far interagire l'utente con le notifiche. Anche questo l'ho visto di frequente perché appunto la gestione delle notifiche integrata in Teams è assolutamente una richiesta che avviene molto spesso e c'è un IDK apposito che consente di andare a pushare delle notifiche personali, quindi per utente, per Teams o per partecipanti di un particolare Teams e questo qui aggiunge un valore non indifferente alla nostra applicazione. La personal app è quella che tra l'altro io preferisco di più perché mi piace proprio come concetto, come approccio. Tra l'altro Microsoft di recente, meno di anno fa, ha introdotto proprio un concetto di Mi Experience, ovvero Teams è uno strumento di collaborazione, viene visto parlando proprio terra a terra come il nuovo desktop fornito da Microsoft, dove ho tutte le informazioni del mio lavoro quotidiano, i miei Teams, i miei team inteso come persone con le quali collaboro, chat, conversazione e quant'altro. Con le personal app è possibile fornire all'utente un'esperienza personale, quindi staccata dai Teams, quindi far girare delle vere e proprie applicazioni, non necessariamente collegate a un team particolare, ma dedicate all'utente fondamentalmente. Questo lo vedremo anche tra qualche slide nel dettaglio. Messaging extension invece è un modo per estendere Teams utilizzando appunto la chat, detto in breve, ovvero se io posso installare una messaging extension in un canale oppure in un Teams e utilizzarla in un particolare canale, e mi offre diciamo una sorta di wizard con delle domande preconfigurate e delle risposte preconfigurate, e offro un'esperienza guidata all'utente per interagire con il Teams. Voi se video, diciamo, meno frequente, però stanno arrivando richieste anche di quello, anche per quello, è sicuramente dal mio punto di vista un po' la nuova frontiera, perché ovviamente dare la possibilità agli utenti di interagire anche all'interno delle conversazioni, e quindi gestire, triggerare eventi durante un meeting, durante un meeting in call, è sicuramente una nuova esperienza che gli utenti stanno cercando. Infine Microsoft Graph, diciamo che senza Graph non si va lontani, ok? Sicuramente è un modo per integrare completamente tutta la suite Microsoft 365 e non solo, andare a interagire con cosa? Con le identity, con tutta la parte di Azure Active Directory, e con l'API messa a disposizione da Graph, che sono tantissime. Una volta che uno fa una scelta di andare su Microsoft Graph, difficilmente torna indietro, perché è veramente un mondo di API, e per noi sviluppatori andare a integrare API nuove, possiamo dire anche funzionanti, quello poco ma sicuro, è un valore decisamente aggiunto. quindi ci consente di integrare le nostre applicazioni con cosa? Con SharePoint, con OneDrive, con Teams stesso, con tutta la suite Microsoft 365, quindi anche con l'API di Power Up e quant'altro. Sicuramente è un modo facile e scalabile per aggiungere valore alle nostre applicazioni. Bene, adesso vediamo un po' più nel dettaglio la parte di app, ok, per chi non l'avesse mai vista. Quello che vi faccio vedere adesso è lo store, ovvero l'app store, ovvero il posto in cui dentro Teams si trovano le applicazioni, ovvero l'applicazione sia di terze parti o applicazioni sviluppate appositamente per l'organizzazione stessa, ok? Dallo store è possibile ricercare le applicazioni oppure eventualmente caricare, teniamo nota di questa voce, caricare in modalità cosiddetta side loading le nostre applicazioni sviluppate in un particolare Teams oppure per tutto il tema fondamentalmente. Vediamo un po' il dettaglio dei tab, ok? Quindi ipotizzando che questo sia il nostro canale, il tab è quell'oggetto che è possibile aggiungere all'interno di un channel, per esempio, cliccando appunto il tastino più in alto e viene proposta un'interfaccia che ti fa scegliere qual è l'applicazione da aggiungere, quindi il tab da aggiungere. Un passaggio importante nei tab è questo, ovvero dà la possibilità di customizzare l'esperienza di configurazione, di setup, ok? Nel nostro caso, in questo caso, vengono offerte appunto delle textbox oppure delle scelte e quindi immaginiamo il nostro use case, andiamo a vedere, andiamo a pensare quello che si può fare nel momento in cui vado a costruire la mia applicazione e voglio dare all'utente la possibilità di aggiungere dei dettagli in quale momento storico della setup e dell'applicazione appunto nel momento in cui lo aggiungo. Queste informazioni poi rimangono e vivono all'interno del contesto dell'istanza dell'app installata ovviamente e sono a disposizione ovviamente sia per lo sviluppatore che per l'utente per poter interagire al meglio. Una volta appunto mostrata l'app, quest'app contosa e generica che è fondamentalmente una specie di to-do list, viene mostrata a tutto schermo con la possibilità appunto di interagire le variazioni. Non solo, è possibile anche aggiungere diciamo delle funzionalità di collaborazione all'interno dell'applicazione stessa, funzionalità di collaborazione che poi vengono anche ribaltate, tra virgolette, nel channel, ovvero nel momento in cui inizia una conversation, questa conversation viene poi triggerata all'interno del channel così che tutti quanti la possono vedere fondamentalmente, anche chi non ha avuto accesso per la prima volta all'app. Vediamo un po' le personal app invece, quindi ho parlato prima, in questo caso abbiamo anche personal app fornite già di piattaforma, ad esempio OneNote, l'applicazione OneNote della personal app è assolutamente quella che è un esempio di personal app e come vedete sulla sinistra manca tutta la parte dei channel perché vive appunto per l'utente, quindi io utente non ho bisogno di fare un cambio di contesto nel momento in cui voglio usare OneNote oppure usare planner, perché qui mi ritrovo tutti i miei planner, tutti i miei OneNote e noi sappiamo che è il cambio di contesto, quindi nel momento in cui non vado ad utilizzare Microsoft Teams per OneNote o per planner, poi devo andare su start, cercare planner, invece qui fondamentalmente ho tutto integrato con tutte le piattaforme che fondamentalmente posso, con tutti i prodotti che posso utilizzare, questo per me è sicuramente un vantaggio. Ok, andiamo avanti, vediamo un attimo l'architettura di altissimo livello di un'applicazione Teams, ok? Partiamo dal Teams Client, quello in arancione, Teams Client vive appunto su Teams Microsoft.com, l'applicazione ovvero il tab in questo caso, non è altro che un iframe che utilizza dentro il Microsoft Teams JS SDK, sarebbe l'SDK che Microsoft ha messo a disposizione per andare ad accedere al contesto dell'applicazione stessa, quindi all'interno del contesto e ipotizzando un tab sviluppato con SharePoint Framework possiamo accedere a tutte le informazioni quali il, ad esempio, se l'app è installata in un canale avremo il titolo del canale o il nome del canale, se l'app invece è personale avremo il contesto utente e quant'altro. Con il contesto di Teams io riesco ad avere tutte queste informazioni e quindi collegarle e svilupparle, dare una business logic e realizzare quindi la mia applicazione. Un eventuale bot invece sulla sinistra ha, si vede che proprio vive esternamente rispetto a Teams, ok? Tra l'altro quello che si può fare, quello che si può fare è assolutamente andare a integrare in Microsoft Teams dei bot anche esistenti, ovviamente con opportune estensioni sul bot framework posso fare in modo, far interagire un bot esistente e quindi estenderlo e farlo vivere anche su Microsoft Teams. Ok, tutto questo quindi va sulla parte sinistra è fondamentalmente esterno rispetto a quella che è la piattaforma di Teams stessa. La mia applicazione poi può andare a parlare appunto tramite eventuali webbook con Outlook per esempio oppure con altri servizi, ok? Una volta fatto questo poi viene renderizzato e quindi compreso all'interno della mia applicazione Teams. Perfetto. Per quanto riguarda i tool un'applicazione Teams fondamentalmente non è altro che un manifest tra l'altro, lo vedremo nella demo tra pochissimo. Questo manifesta una struttura ben precisa e contiene tutte le informazioni relative all'app, quindi è un file JSON, si basa su quello fondamentalmente. Quindi un possibile tool per sviluppare app è lo studio, non lo vedremo in questa sessione però l'abbiamo visto in altre per chi ha seguito le mie sessioni o comunque conosce già studio di Microsoft Teams, è un'app di Teams tra l'altro, quindi se la cercate nel vostro terreno di sviluppo la trovate. È possibile che non la troviate nel vostro tenant, diciamo, aziendale perché deve essere abilitata appunto da un amministratore e dipende appunto dalla vostra abilitazione. Un altro modo per sviluppare applicazioni è lo SharePoint Framework, un modo che io trovo assolutamente molto easy e molto alla portata di tutti, soprattutto se uno viene dal mondo SharePoint e sa già sviluppare SharePoint Framework, sviluppare applicazioni Teams con SharePoint Framework, conoscendo appunto SharePoint Framework, è assolutamente il modo migliore per iniziare a sviluppare applicazioni per Teams. Tra l'altro queste applicazioni, queste app, questo web art possono vivere esattamente sia su Teams che su SharePoint ed è possibile quindi avere un'unica web art, un unico contenitore che può vivere indistintamente su Teams o su SharePoint ed è lo stesso software fondamentalmente, quindi questo per me è un vantaggio assurdo. Altro vantaggio è dove viene ostata l'applicazione, quindi io non ho bisogno di un hosting, diciamo, esterno fondamentalmente, tipo nel caso del bot o un'infrastruttura anche differente o nel caso in cui volessi sviluppare un'app per Teams che non vi è su SharePoint, dovrei comunque ostarla, non so, su Azure o comunque su un endpoint raggiungibile, noi si preferiamo evitare fondamentalmente di preoccuparsi di questo aspetto. Per quanto invece riguarda la realizzazione dell'app stessa, ci sono due acceleratori, a me piacciono entrambi, uno si chiama IoTeams ed è uno scaffoldio fondamentalmente basato su YouMan, attualmente alla versione 3.3 con una serie, diciamo, di domande da riga di comando, quindi si risponde a delle domande, quindi dammi il nome dell'applicazione, dammi cosa vuoi fare, vuoi fare un tab, vuoi fare un bot e così via, lui ti crea una solution già pronta fondamentalmente accelerando in maniera insomma incredibile ovviamente la creazione della solution e quindi andare al primo debug veramente nel giro di pochi minuti. Tutto questo avviene appunto utilizzando IoMan. L'altro tool, e lo vedremo in questa sessione, è il Teams Toolkit, sono diciamo entrambi in preview, sia quello per Visual Studio Code che per Visual Studio, però l'ho provato, diciamo, diverse volte e posso dire che ha un buon grado di insomma di stabilità e di solidità, soprattutto quello per Visual Studio Code che è un po' più avanti rispetto a quello per Visual Studio, ok? Oggi appunto vedremo la parte di Teams Toolkit per Visual Studio Code. Che cos'è il Toolkit per Visual Studio Code? Fondamentalmente Microsoft Teams Toolkit per Visual Studio Code aiuta gli sviluppatori a creare e distribuire applicazioni per Teams, facilitando che cosa? L'integrazione con le identity, per esempio, l'accesso allo storage del cloud e a tutti gli altri servizi di Microsoft 365. Come lo fa? Lo fa quindi, come dicevo prima, con un'esperienza cosiddetta zero configuration, cioè io mi installo il Toolkit e rispondendo a delle domande anche lì, quindi con dei click addirittura senza utilizzare la riga di comando, posso fare tutte queste azioni. Quali sono i prerequisiti? Ovviamente ci deve essere una versione di Node installata, in particolare la raccomandata è la 14. È necessario un account Microsoft 365 con Teams, ovviamente, in modalità developer. A proposito, nel momento in cui voi volete iniziare a sviluppare app e non avete una sottoscrizione Microsoft 365, potete aderire al programma di sviluppo appunto Microsoft 365, c'è il link qua sotto. In questo modo avrete un tenant gratuito con totte licenze enterprise, ovviamente un tenant che scadrà e che verrà rinnovato solo se lo andate ad utilizzare. E questo qui lo trovo sicuramente un strumento fondamentale per chi si approccia allo sviluppo in ambito moderno e workplace. Una sottoscrizione Azure che non è fondamentale nel momento in cui faccio uno sviluppo con SharePoint Framework, ma è fondamentale ovviamente per tutto il resto, nel senso per eventuali integrazioni. O se vado a sviluppare un messaging extension, per esempio, oppure un bot, sicuramente mi servono tutti questi strumenti. Ed Azure, ovviamente, la sottoscrizione Azure. Anche in questo caso è possibile chiedere una free per un periodo limitato, quindi vedete un po' voi quali possono essere gli strumenti che possono essere utili per voi. Dipende un po' da quello che dovete fare. Vediamo un po' come avviene il setup del toolkit. È molto semplice. Basta accedere all'estensione di Visual Studio Code con le shortcut e installare Tips Toolkit oppure andare a cercarlo direttamente nel marketplace. Bene, vediamo un po' come avviene tutto questo. Quindi sviluppo sulla macchina virtuale. Ok, fondamentalmente apro il mio Visual Studio Code e con la scelta CTRL-SHIFT-X vado nell'extensione e vado a cercare il Teams Toolkit. Eccolo qua. E lo vado a installare fondamentalmente. Perfetto. Mi ha aggiunto l'iconcina qui. Ok. Mi ha aggiunto l'iconcina qui che sarebbe questa. Ok. E qui posso andare a vedere o i sample. questi sono assolutamente utilissimi soprattutto per quanto riguarda il se una persona non ha proprio un cognizione di dove appunto mettersi dove iniziare è possibile andare a vedere degli esempi già pronti soprattutto con sviluppati in shape of framework oppure con un back end di Azure o in app meeting. Questi sono sicuramente molto interessanti perché era una possibilità che fino a poco tempo fa non c'era e adesso invece l'hanno data l'esperienza di meeting a maggior ragione in questo periodo in cui meeting online avete visto il numero di utenti come è cresciuto il numero di utenti giornalieri di Microsoft Teams quindi fornire una nuova esperienza di meeting con le customizzazioni messe a disposizione da Teams e dall'esiluppato di Teams è sicuramente una frontiera da non sottolottare sulle quali secondo me bisogna assolutamente investire. Quindi oltre agli esempi è possibile andare a creare una nuova app lo facciamo adesso nella parte in alto, nella barra in alto è possibile andare a selezionare create a new app e scegliere appunto cosa si vuole aggiungere nella nostra app ad esempio costruire un tab basato appunto con su una web page fondamentalmente ok vado avanti e lui mi chiede qual è il tipo di hosting quindi SharePoint Framework o Azure noi scegliamo ad esempio SharePoint Framework e l'eventuale framework client che vogliamo utilizzare ad esempio React diamo un nome al nostro alla nostra applicazione 21.0.3 per esempio magari tour scrive così una descrizione e mi chiede poi dove andare a appunto a salvarlo detto in breve io ho il mio repo qui ok quindi vado qua e come potete vedere adesso mettiamo il nome dell'applicazione questour 2021.0.3 in modo pressoché immediato lui mi ha fatto lo scaffolding della mia soluzione perfetto andiamo a vedere cosa mi ha creato fondamentalmente ok sicuramente c'è una parte relativa al al toolkit dove poi ci sono i setting sia a livello della solution diciamo che ha appena creato con Visual Studio Code a livello di le mie subscription fondamentalmente e quant'altro c'è una parte di VS Code in particolare c'è la parte launch dove posso specificare tutte le informazioni di debug quindi eventuali workbench oppure nel momento in cui lo vado a creare diciamo un vado a bugare su mio tenant SharePoint un workbench online tra l'altro ho saputo che il workbench local verrà dismesso in futuro e quindi l'unico workbench disponibile sarà quello online in effetti il workbench local non ha moltissimo senso nel momento in cui faccio integrazione non mi fa impazzire ok la cartella SPFx poi ha ovviamente tutta la mia tutto il mio sorgente mentre l'app package sono le informazioni relative all'app di Teams ed è il famoso manifesti Teams il JSON che appunto ho citato prima nel JSON in questo caso c'è la versione dello schema molto importante perché consente anche di capire quali proprietà possiamo usare e quali no e come vedete lui mi ha predisposto nella parte static tab il mio tab di tipo personal ok mentre la parte nel caso in cui il tab lo vado a installare in un Teams channel ho anche l'url appunto di ovvero l'url che viene renderizzata nel momento in cui offro un'esperienza di configurazione ok molto importanti tra l'altro non solo le permission ma anche i validi domain nel momento in cui faccio integrazioni con endpoint di altro tipo perfetto per quanto riguarda invece il sorgente qua shape and framework è una solution shape and framework a tutti gli effetti quindi c'è la parte di web part la parte di component nella parte di web part occhio nel senso che c'è un punto interessante che è questo lui automaticamente nei supported host ne ha messo oltre a sharepoint web part anche Teams personal app e Teams tab e sono queste fondamentalmente le possibilità oltre a sharepoint full page e ovviamente nel momento in cui io ho una soluzione shape and framework che voglio far diventare un'applicazione per Teams il modo per farlo è aggiungere oltre a sviluppare insomma le eventuali componenti specifiche per Teams e aggiungere il mio scope quindi il support ad host di tipo Teams personal app oppure Teams tab o tutte e due ovviamente quindi questo qui è comunque a disposizione già nella solution dello shape and framework per quanto riguarda invece il mio codice fondamentalmente questa è la mia web part detto in breve ok da qui posso cominciare a sviluppare il mio tab ok nel momento in cui io voglio andare a debuggare tutto quanto è sufficiente andare a lanciare il debugging ok e quello che avviene nel momento in cui parte il debug è fare appunto lui fa l'npm install quindi si scarica tutte le dipendenze fa la bid e quant'altro e parte il local workbench questa operazione dura qualche minuto quindi non la facciamo da questa soluzione ma la facciamo da un'altra soluzione che ho già preparato in un altro momento e in modo tale da recuperare qualche minuto ok direi che dovrebbe essere questa ok ok perfetto vado a far partire il debugging questa soluzione è un semplice scaffolding per il momento quindi non non c'è niente diverso da quello che abbiamo visto prima e quindi qui dentro ho la mia webport parte il debug nel frattempo possiamo andare a vedere sempre sul Teams Toolkit che cosa possiamo fare sicuramente possiamo collegare i nostri account in modo tale che le azioni sottostanti siano fondamentalmente disponibili e le azioni sottostanti sono ad esempio il provision all'interno del cloud la creazione del pacchetto quindi il publish to Teams la validazione del manifest queste azioni diciamo sono molto utili sicuramente per velocizzare il deploy nell'ambiente di sviluppo che poi è collegato all'alimenti qui a questo punto ecco mi ha fatto partire il workbench io posso aggiungere qui la mia web a parte semplicemente andare a debaggarla e fare quello che mi interessa per quanto riguarda invece il deploy il deploy avviene quindi vi stavo dicendo è sufficiente andare qua e andare a a fare un publish to Teams e lui mi dirà che vediamo che succede mi dirà che è stata già sottomessa perché l'ho installata ma nel momento in cui lo rifaccio la sovrascrive e la pubblica dove la pubblica essendo un pacchetto SharePoint Framework a tutti gli effetti è un pacchetto SharePoint Framework lo pubblica nell'app catalog di SharePoint ok quindi la nostra soluzione che è questa qui ok una volta caricata è possibile andare a sincronizzarla su Teams quindi renderela disponibile su Teams cliccando questo questo bottone e attendendo che l'applicazione venga sincronizzata nel momento in cui l'applicazione è sincronizzata quello che succede è che posso andare nell'app studio no scusate nello store andare a cercare US Tour eccola qui e la posso installare dove la posso installare ad esempio in un team ok quindi aggiungo questa app nel team Visual per esempio qui e faccio il setup del tab questa è l'esperienza di setup che appunto vi dicevo quindi la possiamo personalizzare anche questa andare a fare save e a questo punto il mio tab è bello che renderizzato qui dentro ok e quindi io posso distribuire questa applicazione mettere qui una mia business logic e offrire agli utenti la possibilità di avere nel proprio teams oppure come personal app il mio la mia esperienza che ho descritto perfetto diciamo che lato demo per adesso non riusciamo a fare altro possiamo però andare a vedere ancora alcune note tipo sui next step abbiamo ad esempio questi due uno è il developer program di Microsoft S5 vi invito se non l'avete appunto mai fatto a sottoscrivere una vostra fare una vostra sottoscrizione quindi iscrivi anche perché fondamentalmente è gratuito e l'altro riferimento è il developer platform Microsoft Teams dove trovate non solo tutto il training e tutte le informazioni a riguardo trovate delle demo trovate la documentazione dell'SDK trovate anche la tech community e vi invito a partecipare attivamente perché è sicuramente il modo migliore per crescere e imparare in questo ambito e come continuare sicuramente uno sviluppatore Microsoft Teams che crea applicazioni per Microsoft Teams deve sicuramente approfondire tutto ciò che riguarda l'identity Microsoft Microsoft e Microsoft Graph questo per offrire il più possibile del valore aggiunto alle proprie applicazioni anche perché spesso e volentieri quello che ci viene chiesto ai clienti non è banalissimo di conseguenza tutto questo facilita il nostro lavoro l'altra cosa che si può fare è pensare a Teams come solution container ovvero vedere Teams come un contenitore di soluzioni anche più complesse quindi non necessariamente limitate al nostro tab o nostro bot ma è un'applicazione che ha sia il tab sia il bot sia la messaging extension eventuali flow di Power Automate sotto e quindi una soluzione più complessa end to end in questo modo è sicuramente possibile offrire ancora maggior valore infine ci sono tutta una serie di applicazioni di template appunto le abbiamo viste anche nel toolkit e quindi le applicazioni già pronte che sono utilissime per poter cominciare a studiare per poter cominciare a orientarsi e fare i primi passi nello sviluppo di applicazioni per Microsoft Teams perfetto Mario non so quanto tempo ho ancora per adesso ringrazio tutti per l'attenzione qua trovate i miei riferimenti non so se c'è qualche domanda a quale posso rispondere vediamo un po' ok per adesso no ok vi faccio allora vedere un'altra cosa se ho ancora un minuto Mario poi magari lo dici tu potrei passare da qui andare qui vi ho lasciato un link nel senso lato SDK come dicevo prima il contesto di Teams ci si accede in questo modo quindi immaginando una web quindi sviluppata in shape in framework dal contesto è possibile accedere o al page contest quindi contesto shape in framework oppure al contesto di Teams e come vedete qua ad esempio in questo sample molto banale tiro fuori il nome del team dove è installato il dove è installata la mia la mia app quindi accedere alle informazioni da dentro Teams è veramente semplice nel momento in cui vado utilizzando il Teams Context ok perfetto allora non so io sicuramente vi ringrazio vi chiedo di rimanere connessi e quindi seguire ancora il Visual Studio Tour 2021 vi saluto ci sentiamo alla prossima grazie a tutti